le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di lunedì 9 gennaio ariete oggi riuscirete a dimenticare per un attimo tutti i problemi che state affrontando in questo periodo tumultuoso sarete più rilassati e pronti a godervi la vita toro il lavoro quotidiano vi peserà avete voglia di evadere di fare qualcosa di diverso ma sarete sopraffatti dagli impegni di lavoro e dai vostri doveri domestici gemelli quando siete in forma diventate un punto di riferimento per tutti anche oggi sarete allegri simpatici divertenti e stare in mezzo alla gente vi procurerà bellissime emozioni cancro la diplomazia sarà l'arma vincente in questa giornata in cui ancora non vi sentirete in forma evitate gli scontri frontali e accettate un compromesso leone marta in gemelli vi trasmette una carica extra di energia sotto questa bellissima luna cominciate a ritrovare la vostra forma migliore vergine siete molto sensibili alle richieste dei vostri amici e vi ritroverete a spendere molto del vostro tempo cercando di aiutare una persona in difficoltà bilancia riuscirete a ritagliarvi dei momenti da dedicare alle vostre passioni e ai rapporti sociali rompendo la routine possono arrivare anche delle comunicazioni molto importanti sul lavoro scorpione non riuscite a stare fermi un solo momento credete fermamente nelle vostre idee e fate di tutto per metterle in pratica arrivano ottime notizie sagittario sarete un fiume in piena grazie alla luna che vi rende allegri e loquaci non perderete occasione per farvi nuovi amici o per tentare una conquista capricorno in casa c'è davvero tanto da fare non riuscite a trovare un momento da dedicare a voi stessi a relax ecco perché in serata avrete voglia di riposare acquario l'umore non sarà buono per tutta la giornata e portare a termine i compiti quotidiani sarà molto faticoso avrete voglia di distrarvi in serata pesci questa è una giornata che vi permette di guadagnare molto se riuscirete a stare alla larga da persone che vi fanno perdere tempo ma anche dalla burocrazia ecco l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus